Dove ti hanno catturato? Stavo andando in Svizzera. Dovevi passare dall'Italia. Dove l'hai preso il libro? I miei padroni di casa. L'hanno lasciato quando sono scappati. Chi è Bobo? Vuol dire papà in persiano. Non sono ebreo! Sono persiano! E cos'è? Bobo? Vuol dire padre, nella nostra lingua. Qual è la capitale della Persia? Teheran. Come si dice madre? Madre. Anto. Quello che più odio al mondo sono i bugiardi. Se stai mentendo, te ne pentirai. Ogni sera dopo il lavoro, verrai e mi insegnerai la tua lingua. Pane. Raggi. Carne. Kank. Devo inventare delle parole in una lingua che non conosco. Inventarle non è difficile. Il problema è ricordarle tutte. È impossibile. Pane. Raggi. 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 Quante parole hai imparato finora? Più di mille. Allora parliamo. Ho composto una poesia. Lo. Gat. Rulleri. Ha. Fab. Mi piace, mi piace molto. Era Ustunfuehrer. Chiamami Klaus. Potrei ucciderlo. E se fuggisse? Nessuno ci è mai riuscito. Il prigioniere ha reso Jun. E avresti sacrificato la tua vita fra quella massa di senza nome. Sono senza nome solo perché non conosci loro nomi, ma non sono peggiori di te. Almeno non sono assassini. Non sono un assassino. Sono stanco. Di cosa? Di avere paura. Non sono stati che. Allora. Allora. Grazie a tutti.